Amici della rete, sono Lorenzo Mascolo e oggi vi parlerò dei 10 comandamenti dei social media. Primo, non pubblicare troppi contenuti. Scegli i momenti propizi della giornata, non esagerare, si rischia di essere fastidiosi. Secondo, non andare per tentativi, rischi di perdere tempo e risorse. Studia bene il tuo target, la tua nicchia. Terzo, non usare un'unica piattaforma, diversifica tanto e sempre. Quarto, non essere impaziente se i risultati non arrivano, creare una community non è uno scherzo, una cosa da niente, ci vuole tempo e risorse. Quinto, non ignorare i fan più attivi sui tuoi account, coccolali, interagisci con loro, incentivali. Sesto, non pagare per avere un falso pubblico, le bugie hanno le gambe corte e quando si scopre l'arcano si fanno brutte figure, i nodi vengono al pettine. Un esempio potrebbe essere quello con più numeri e poche interazioni. Settimo, non tenere per te la tua strategia e il tuo piano di marketing, condividila con il tuo team, affinché tutti possano controllare come vanno le cose. Ottavo, non farti trovare impreparato a una crisi dei tuoi account perché arriverà. Prepara prima di subito le controindicazioni adatte per cercare di superare un momento del genere. Nono, non mostrarti mai svogliato o scontato sui tuoi account social. Il tuo brand ne risentirà. Metti sempre passione e dedizione in ogni esternazione. decimo, non essere incomprensibile. Messaggi chiari e tondi, senza breviazioni, modi di dire, slang, eccetera.